Deve esserci una via d'uscita. Sembra ci sia un qualche tipo di macchinario qui. Ehi, una scala! Beh, forse posso raggiungerlo se mi dai una spintarella. Ok. Sali. Sei più pesante di quanto sembri. Riesci a raggiungerla? Sembra qualcosa come un vecchio montacarichi. C'è una corda. Prova a farlo scendere da te. Oh, vedo una galleria! Possiamo uscire di qui! Ciao, ragazzi. Tranquillo, Eddie. Tranquillo. Cosa diavolo sta succedendo là fuori? Non li hai visti? Oh, no. Oh, Dio, no. Siamo intrappolati. Cristo, e quello cos'è? Siamo morti. Siamo tutti morti! No! No! Eddie, torna qui. Oh, cavolo! Drake, se non riuscissimo a farcela, voglio solo che tu sappia che non ti sopporto. Lo stesso vale per me, amico. Ora andiamo. Vediamo, cosa sta succedendo? La corda, qua giù! Presto! Dannazione! È tutto ritenuto! Non si muove! Elena! Si vede. Questa! Oh mezza! Che tavolo sta succedendo laggiù? La cosa! Presto! Oddio! Dannazione! È tutto allontanito! Non si muove! È tutto allontanito! Ha 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 ha! Va bene. Ah! Centus! Forza! Oh no! Siamo morti! Pesato schifoso con Yoke! Non si scherza con Eddie Raja! No! Eddie! Eddie, resisti! Non può essere vero! Elena, sbrigati! Vieni duro, Nate! Musica 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 Fatto! Si muove! Musica Spera la corda! Forza, Nate! Ti faccio oscillare! Vieni, Key! Oddio! Via! Non va bene, non va bene, non va bene! Questa parte! Via! Via, corri! Che diavolo era quello? Non so, non lo so. Stai bene? Sì. Nate? Ok, non credo che possano superare questo. Nate. Cosa? Dove siamo? Non ne sono sicuro. Via! Si spiega lo U-Bod nel rio delle Amazzoni. Nate, vieni, guarda qui. Allora lo hanno trovato. Sono entrati nel nascondiglio e lo hanno ripulito. Sì, ma cosa c'entra il monastero in tutto questo? Non lo so. Non ha alcun senso. Se ora la statua si trova qui... Oh, cavolo. Ci eravamo proprio sopra! Scommetto che questo ci porterà in superficie. Sembra che i nazisti non abbiano pagato l'elettricità. Maledizione! Senti, se riusciamo a raggiungere il generatore, possiamo riattivare la corrente. Prima dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Aspetta, che stai facendo? Che stai facendo? Trovo una via di uscita. Bel lavoro. Già. Bene, andiamo. No, questa è tua, cowboy. Cosa vuoi dire? Nate, io non posso fare quel salto. Non pensare che ti lasci qui da sola con quelle cose. Non abbiamo scelta. Vai, riattiva la corrente, torna a prendermi e poi... Andremo via da qui, ok? Vai! Tornerò subito, ok? Sì.